Metà marzo e non abbiamo ancora pensato a papà, gravissimo Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per Te Buongiorno ragazzi, metà marzo, si sta avvicinando, galoppando la festa del papà e non mi avvisate Io quest'anno me l'ero proprio dimenticata, non ne stavo per parlare sul canale, imperdonabile, ombretta cattiva cattiva Ma rimediamo e rimediamo con quello che tutti, tutti, tutti abbiamo a casa Oggi usiamo le costruzioni, anzi io uso quelle originali, i Lego E allora costruiamo con i Lego una phone station per il cellulare di papà Cos'è la phone station? Una piattaforma, eccola qua, vi faccio vedere in anteprima In cui il papà potrà ricaricare il cellulare e quando ha il cellulare in uso potrà riporre spinotti Ed evitare questo per casa, cuffie per casa, fili per casa, tutto riposto Emmett ce lo tiene, Batman ci tiene le cuffie quando non tiene la bandierina per fare gli auguri Adesso prendiamo tutti quei Lego che magari crescendo abbiamo messo in disuso Oppure se avete figli piccoli prendete i loro Lego e facciamo costruire loro il vero regalo Fatto con le manine dei bimbi per il proprio papà Un regalo pieno di creatività e di infanzia con le costruzioni, con i Lego E allora spostiamoci di là e andiamo a vedere la phone station come si fa Ed ecco l'occorrente per il video di oggi Lego, 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 come se non ci fosse un domani È una minifigure Lego, cioè un personaggino di quelli che vi piace di più Può essere un personaggio che assomiglia al vostro papà, può essere il vostro supereroe preferito Può essere un personaggio che assomiglia a voi Quindi quello che preferite Io per il mio lavoro utilizzerò il mitico Batman Che è sempre un classico per i papà E allora cosa costruiremo insieme? Un meraviglioso portacellulare Questo qui Eccolo qui, guardate che bello È un portacellulare che tiene il cellulare in postazione E che dietro ha il vano per la presa e per il filo o per le cuffie Perché quando questa va attaccata alla corrente qui rimane vuoto Quindi potete mettere anche le cuffie Per caricarlo basta mettere il telefono al contrario Chiedere a Batman di porgervi il filo Ed inserirlo sulla parte superiore del cellulare Ed il gioco è fatto Quando invece volete riporlo Niente più fili in giro Niente più prese Mettete tutto nel suo vano contenitore E il gioco è fatto È un modo divertentissimo per riutilizzare i vecchi Lego dei nostri bimbi Potete farlo anche con i duplo naturalmente Ed è un modo carino anche per far fare a un bambino proprio da solo Il lavoretto della festa del papà in maniera semplice Io non l'ho fatto usando la colla Diciamo che non mi sono voluta trasformare in Lord Business E non ho voluto usare il Kragol Ma se volete potete tranquillamente usare il vostro Kragol preferito La mia l'attacca tutto E mano a mano che costruite Incollare i pezzi In modo che diventi un oggetto stabile E non più scomponibile Però se devo essere sincera La bellezza del Lego è anche quella Che si possa poi sempre rivisitare Da parte del vostro bambino Decidete voi Se il bimbo è cresciuto Ed è un giovane ragazzo Che farà il video Può anche decidere di regalare i propri vecchi Lego Che non usa più al proprio papà Incollandoli tra di loro Se invece è un bambino che ancora ci gioca Ma vedete voi Decidete Questi sono di Enzo Quindi io non glieli rubo Li ho solo presi in prestito E non userò il Kragol Chi non ha visto Lego Movie Non mi può capire Il Kragol è la colla per intenderci E allora cominciamo subito E trasformiamoci in tanti piccoli Mastri costruttori Ho corrente e racimolate Un bel po' di Lego Soprattutto mattoncini classici Sia da uno Che da due Che da tre Non vi dirò il pezzi In numero esatto Vi farò vedere come lo costruisco Perché potete costruirlo Con quello che avete Adattando i vostri pezzi L'importante è che formiate Delle pareti Spesse di un certo tipo E lunghe in un certo modo Quindi adesso vedremo subito Come personaggi Io ho scelto I due protagonisti Del film Lego Movie E allora E sono anche i personaggi preferiti di Enzo Hammett Il mitico protagonista di Lego Movie 1 e 2 E Batman Perché lui è oscuro E senza genitori Quindi dobbiamo averlo per forza con noi A proteggere il cellulare Da mani cattive Poi ci occorrerà Uno stuzzicadenti Un pezzettino di carta gialla E una colla Che può essere O l'attaccatutto Chiamiamolo Kragol dai O l'attaccatutto Barra Kragol O la Pritt Che è un'altra attaccatutto Ci occorreranno anche un paio di forbici E allora Cominciamo subito Come prima cosa Dobbiamo costruire una base Una base che sia 16 pallini Per 12 pallini E allora Io userò Due stecche Da 4x12 E due mini basi Da 8x6 E le unirò insieme All'interno Con un semplice pezzo Un pezzo Un mattoncino classico Da 2x4x6 O da 10 pallini Per 2 E lo metterò al centro Così Ad unire tutto In un'unica grande base Se voi ovviamente Avete già la base Bella e pronta Meglio per voi Insomma Il lavoro è tutto fatto Sul davanti Per sigillare Bene il tutto Metterò Delle basi Così Lunghette Queste super sottili Da 2x4x6 8 pallini Per 2 Ovviamente Se voi le avete Più piccoline Che ne so Come questa L'importante È che ne mettiate Per esempio Due di queste Uno da 4 Io ne sto mettendo Semplicemente Due nere Da 2x8 E faccio Tutta la circonferenza Con pezzi Di questa Grandezza Quindi Continuo Vedete Quando non ne ho Uno abbastanza lungo Da 2 Ne metto Due Da 1 E praticamente È la stessa Identica cosa Le fondamenta Della mia costruzione Sono pronte Andiamo avanti Su tutta Questa linea Ho bisogno Di allungare Di 1 La parte inferiore Io ne userò Uno da 10 E 1 da 2 Perché mi servirebbe Un pezzo Da 12x1 Voi se lo avete Usatelo Oppure potete usare Tanti mattoncini Da 2 O da 3 O da 4 Quelli che avete Metto Questi pezzi Che sono Dei pezzi Spioventi Con Una linea Di pallini Occupano Tre pallini In lunghezza Quindi Io vado per pallini Chiamo gli agganci pallini Effettivamente Non so come I perni De Lego Non so come si chiamino Li chiamiamo pallini Ok Convenzionalmente pallini Benissimo A questo punto Dobbiamo costruire Le nostre pareti E dobbiamo Costruirle In maniera Speculare Ok Quindi Scegliendo Dei colori Che siano Sempre Uguali A seconda Del mattoncino Che prendete In questa parte Solamente Anteriore Ora monteremo La parete Poi la smonteremo E la rimonteremo Insieme Facciamo prima A farlo vedere Che non A farlo capire Abbiamo messo Il verde Poi ne metto Due col blu Due col verde Per esempio Io qui Non ho due mattoncini Da sei per due Ne sto mettendo Uno più lungo Non importa Compenserò dopo Sul retro Dove non si vede Con dei mattoncini Di differente grandezza L'importante È creare Questa scaletta Che salga Da qui Fino Alla parte Retrostante Quindi Prendiamo Due gialli Così Poi Mi servirebbero Due rossi Ma non li ho Da sei centimetri Poco importa Li sto mettendo Da quattro E poi Sistemo Sul retro A questo punto Però Devo sistemare Il laterale Da questo lato Che manca Un po' di tutto E adesso Andiamo a costruire Dietro questo Ne mettiamo Un altro rosso Così E così Agganciando Vedete Si salderanno Dietro questo blu Ne metto Un altro Di un altro colore Io a disposizione Ce l'ho Giallo Et voilà Dietro Quello giallo Io ne metterò Uno Da quattro Verde Così E sopra Quello Verde Ne metto A chiusura Uno rosso Così Faccio la stessa cosa Più o meno Dall'altra parte Mi chiudo Un po' meglio La paretina Per chiudere Questo spazietto Qua Ne metto Uno verde Da due Questo da due Mi servirà anche Per unire I due Che non avevo E creare Una parete Chiusa Da questo lato Invece Per concludere La parete Poi metto Altri Leggo lunghi Così Da un centimetro Non da due centimetri Da un centimetro E chiudo Questo mi consentirà Di chiudere Vedete Molto bene Le pareti Da ambo i lati Ora però Per l'interno Mi serviranno Altri mattoncini E allora Ne prendo due Che ne so Che ne so Io ne ho due grigi Da sei E li metto Dentro Per creare Di nuovo Una parete Da Due Pallini Per Dodici Voilà Adesso Su queste Possiamo Continuare A introdurre Degli altri Mattoncini E allora Ne metto Così A caso Devo fare Semplicemente Delle pareti Da dodici Quindi posso Usare Tutti i colori Che voglio E tutte le lunghezze Che voglio L'importante Che siano Larghi due E in totale I pallini Facciano Dodici Mettiamo Due Da un centimetro Qui dietro Quindi devo Tirare su Le pareti A questo punto Prendiamo Due pezzi Che siano Da tre centimetri Per due E andiamo Ad incastrarli Qui Uno De due Anche qui Se non li avete Tre centimetri Per due Ma li avete Tre centimetri Per uno Ne metterete Due Se li avete Da due centimetri Per uno Li metterete Sei Dipende Da ciò Che avete Sempre E comunque E poi Altri due pezzi Per salire Ancora Con La Parete Per esempio Adesso A me Qui servirebbe Un pezzo Unico Per far sì Che questo Pezzo Prenda Stabilità E che le pareti E che le pareti laterali Si omiscano Maggiormente Con la parete Posteriore Non ne ho Due Non ne ho Uno da due Ne ho due da uno E li affianco Così È la stessa Identica cosa Adesso Ho trovato Questi due pezzi Blu Con lo spiovente Base Quattro Che andrò A mettere Qui E sopra di questi Andrò a mettere Due pezzi grigi Sottili Così Vedete Perfetto Su questo Metterò Una striscia Se avessi una striscia Unica Sarebbe Perfetto Ma non ce l'ho Quindi metterò Una striscia Da dieci Per due Sottile E poi Per rifinitura Ho trovato Due pezzettini Da due Senza perno sopra Che essendo questa La parte alta Su cui non devo agganciare Più nulla Mi va anche bene Come rifinitura Pensiamo ora All'interno Prendiamo Due mattoncini Da Uno Per Due E Infiliamoli Qui Dove c'è Rimasto lo spazio Della trave centrale Diciamo così Proseguiamo Dobbiamo creare Una terza striscia Così Perfetto E su di essa Agganciare Dei pezzi Lunghi Tutta la lunghezza Quindi Da due Ma che siano Come voi Desiderate Prendo Uno Da uno E lo metto Al centro Qui E poi Rifinisco Con due Mattoncini Sottili Da due Per uno Che userò Per Rifinire Adesso Non ci rimane Che scegliere Le minifigure Che vogliamo A custodia Del nostro Portacellulare Per me Arrivano Hammett E Lui Che è oscuro E senza genitori E allora Li mettiamo Qui Prendiamo Il filo Del cellulare E lo Inseriamo Nel vano Retrostante Emmett Ci fai la cortesia Di reggere Lo spinotto Certo Certo Ecco qua E la spina La mettiamo Dall'altra parte Una volta finita La nostra Fonstation Eccola qua Oramai la chiamo così Ragazzi Postazione Tra il cellulare Ecco una volta finita La nostra postazione Tra il cellulare Emmett Porta il filo E Batman Deve portare Anche lui qualcosa E allora Batman Facciamo portare Gli auguri Per il nostro papà Perché non dimentichiamo Che innanzitutto Batman Che è oscuro E senza genitori Mi piace tanto Per fare portare Gli auguri al papà E poi Perché è il regalino Della festa del papà Io Taglio Una striscia di carta Che sia larga Un 3 cm Ovviamente Io non prendo Le misure Ma voi Fatelo E la piego In due Quindi Faccio Una sorta Di bandierina Uno E due Qui E La attacco Qui Sullo stuzzicadenti Però Prima di attaccarla Sullo stuzzicadenti Devo fare una cosa Siccome lo stuzzicadenti È più sottile Dell'impugnatura Dei lego Allora Devo ingrandirne Lo spessore E il modo più semplice Per farlo È attaccare un po' di carta Attorno Allo stuzzicadenti Prendo un po' di attacca tutto Lo stendo ben bene E Arrotolo La carta Vediamo un po' Se così Batman Riesce ad afferrarlo Sì Quindi Mi fermo A questo punto Sulla bandierina Scrivo Il messaggio Che preferisco Andrò sul semplice Auguri papà Anzi auguri papino Voilà Metto la colla Sia al centro Che sui margini Inserisco lo stuzzicadenti E chiudo La mia bandiera Quindi Batman Diventerà Il portabandiera Del mio amore Verso il papà Dove sei Batman? Eccomi E allora Tu Reggi questa Ecco qui Batman Col nostro messaggio Ed eccolo Bell'è pronto Ma non è fantastico Ragazzi Un regalo Come non se lo aspetta papà E come sicuramente Gli piacerà Perché i papà Sono stati ragazzi E anche a loro Sono piaciuti I Lego Se non gli piacciono ancora Per esempio Il papà di Enzo I Lego Piacciono tanto ancora E un regalo così Credo che lo renderà Molto molto contento Ora lo distruggo E glielo faccio rifare ad Enzo Voi fate Il vostro Portacellulare Con i vostri Lego E diventate tanti Piccoli Mastri costruttori Con i vostri Residui di Lego Di quando eravate più piccoli Un grande bacio E vi lascio alle foto E auguri a tutti papà Avete visto che bella La nostra phone station Ognuno può avere la sua Oramai la chiamo phone station Perché è troppo international Comunque La piattaforma Per ricaricare il cellulare Il porta cellulare Il posa cellulare Chiamatelo come vi pare Ma fatelo Perché è bello assai Se volete renderlo Indistruttibile Collegate i battoncini Colla colla Ovviamente Le minifigure Fatevele come volete Fatevele Che somiglino al vostro papà Che somiglino a voi Piuttosto che Di fantasia Io ho scelto Emmett E Batman Perché sono i personaggi Che in casa nostra In questo momento Impazzano maggiormente Sono anche i personaggi preferiti Di Enzo E quindi Ho preferito Farli così Devo anche fare Una precisazione Questa postazione Per il cellulare La scelta Proprio Enzo Che l'aveva vista In forme simili Ma non uguali Su Pinterest Molto tempo fa E aveva provato A farla E non c'era riuscito Quest'anno Lui l'ha fatta E io Gli ho copiato L'idea Ammetto Che questo è un video Copiato da Poti Quindi A questo punto Do i credit A chi li merita Perché effettivamente L'ho vista fare a lui Ho detto Questa è troppo bella Piacerà a un sacco Di ragazzini Sul canale Io non so Lui ha vista Da qualche parte Su internet E l'ha rifatta A modo suo E a modo suo E io a sua volta L'ho rifatta A modo mio Inserendo il vano Per i fili E la presa Bene Sviluppate adesso La vostra Come vi pare Potete svilupparla Più grande Per i tablet Potete svilupparla Più In orizzontale Per posizionare Il cellulare Noi l'abbiamo Anche fatta Non ve l'ho fatta vedere L'abbiamo fatta Anche in orizzontale Come poggia cellulare Vedete Così Enzo Quando vuol vedersi video E non sa dove poggiare il cellulare Ce l'ha Bella e pronta Perché una volta Capito il meccanismo E vai a sfornare Con i Lego Creazioni sempre nuove Del resto per me I Lego Sono sempre stati questi Libera materializzazione Della propria fantasia A me piacciono i set Con le istruzioni Ma quello che mi piace di più Dei Lego È creare Essere proprio Un mastro costruttore E allora Diventate anche voi Dei mastro costruttori In forma creativa E create un bellissimo regalo Per la festa del papà Se invece volete fare un regalo A me Potete sempre farlo Cliccando sul pulsante paypal Che trovate sulla home page Del canale Per contribuire in maniera attiva Alla vita di arte per te Se invece volete contribuire In maniera morale Sostanziale Alla vita di arte per te Lasciatemi un pollice in su Una condivisione a questo video E venitevi ad iscrivere Anche sui miei altri canali Ombretta e due cuori una k Basta Non vi devo chiedere più niente Ho approfittato anche troppo Della vostra pazienza Vi do appuntamento sempre qua Per il prossimo video Lunedì Con il bigliettino Per la festa del papà Perché siamo in ritardo Ma ci riprendiamo alla grande Da Ombretta E da arte per te Tutto Alla prossima volta Ciao Ciao